Attimi di paura nel pomeriggio di ieri all'interno del rione Conocal di Ponticelli, nella periferia est di Napoli, quando dal balcone di un palazzo al via Alchiaro di Luna un uomo ha iniziato a esplodere colpi d'arma da fuoco puntando una pistola al cielo. Immediato sul posto l'intervento degli agenti della polizia, che rapidamente hanno formato un cordone di sicurezza perimetrando l'area dal resto del circondario. Nelle immediate vicinanze dell'abitazione dal cui balcone l'uomo sparava, infatti c'era una scuola. Un negoziatore delle forze di polizia ha poi aperto un canale di comunicazione con l'uomo e nel giro di poco il peggio è passato, senza che nessuno dei proiettili esplosi ferisse passanti o residenti della zona. Stando a quanto ricostruito successivamente ai momenti di tensione, a impugnare l'arma sarebbe stato un pregiudicato da poco uscito dal carcere. La furia dell'uomo, si apprende, avrebbe anticipato di poco l'arrivo sul posto di una volante delle forze di polizia, che gli avrebbe dovuto notificare un nuovo arresto. Probabilmente ubriaco, l'uomo avrebbe quindi iniziato a sparare in aria urlando frasi sconnesse legate alla volontà di non tornare in carcere. Le sue azioni, sfortunatamente, non hanno migliorato la situazione.